Sali in alpeggio per difendere le sue capre e viene aggredito da tre lupi. È successo ieri sera ad un giovane allevatore all'Alpe di Ossuccio in Tremezzina, momenti di paura per Raffaele Castellazzi, salito in alpeggio a controllare il greggio e dopo che, tra sabato e domenica, si era accorto che mancavano alcuni capi di bestiame. Salito all'Alpe, ho trovato le mie capre spaventatissime, racconta tramite col diretti. Tutto poi è accaduto in un attimo, mi sono trovato circondato da tre lupi che hanno iniziato a girarmi attorno, uno mi è saltato addosso, ha morso la camicia e mi ha colpito anche sulla gamba, per fortuna di striscio, ma poteva sicuramente finire peggio. Non è più possibile lavorare in queste condizioni, aggiunge, ci sentiamo sotto assedio e siamo stati addirittura costretti a riportare il greggio a valle. All'appello mancano ancora 15 capi di bestiame. Un racconto che pone una volta di più l'attenzione sulla difficile convivenza con le specie selvatiche sul territorio, la stessa presenza del lupo si è moltiplicata negli ultimi anni in tutta la penisola e anche tra i monti lariani. Senza dimenticare, sottolinea la col diretti, che proprio le province lariane sono sotto scacco dei cervi e invase da decine di migliaia di cinghiali. Anche in questo caso è necessario intervenire urgentemente per il loro contenimento, per difendere la sicurezza delle persone e le produzioni agricole. I branchi, dice ancora l'associazione, si spingono sempre più vicini ad abitazioni e cascine, fino ai parchi, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali, assediano stalle, causano incidenti stradali e razzolano tra i rifiuti con evidenti rischi. Per la salute.